Siamo Umberto e Walter, due studenti del corso di laurea magistrale in scienze geologiche applicate dell'Università di Torino e in questo video parleremo di un problema ambientale legato alle acque di miniera, l'Acid My Drainage, AMD per gli amici. Cos'è il dreno acido di miniera? Si tratta di acqua acida ricca di metalli pesanti che sgorga dalle gallerie di una miniera verso l'esterno. Ovviamente è presente anche in natura, ma in seguito vedremo che con la mano dell'uomo può rappresentare un pericolo. Dove e come si forma? Queste acque acide si formano nelle miniere sia attive che abbandonate, dove sono estratti metalli come ferro, rame, argento, oro, ma l'MD si verifica anche dove si estrae il carbone. Quando l'acqua proveniente dalle infiltrazioni e l'ossigeno contenuto nell'aria vengono in contatto con dei minerali contenenti l'ozolfo, ad esempio la pirite, tali minerali si ossidano. L'ossigeno si lega all'ozolfo e all'idrogeno dell'acqua formando acido solforico. Dopo la formazione di acido solforico si innesca un ciclo per cui l'acido intacca il minerale che si degrada, liberando zolfo e formando altro acido. Questo ciclo inoltre libera nell'acqua il resto del minerale, ovvero metalli in forma ionica come ferro, rame, nichel, arsenico, piombo, zinco, cromo e manganese. Tali metalli sono mantenuti in soluzione nell'acqua a causa dell'acido sulforico presente in essa e quindi vengono dispersi nell'ambiente al di fuori della miniera. Quali sono le conseguenze per l'ambiente? Nelle miniere attive l'AMD non dovrebbe comportare problemi in quanto quest'ultime sono soggette a controlli ambientali, mentre nelle miniere abbandonate ci sono grossi rischi per l'ambiente quando l'acqua acida e carica di metalli si disperde dal di fuori delle gallerie. Tale dispersione provoca due effetti negativi. Un cambiamento delle condizioni naturali di pH, specialmente nei corsi d'acqua, dove si passa da valori prossimi alla neutralità, circa 7, a valori nettamente acidi, circa 3. Un aumento esponenziale della concentrazione di metalli che decuplicano i loro valori. Questi due effetti sono molto dannosi in quanto dove arrivano le acque dell'AMD vengono distrutti gli ecosistemi presenti a causa dell'acidità e si inquinano falde e suoli, apportando metalli pesanti che possono fissarsi negli stessi per molti anni, rendendoli inutilizzabili. Cosa si può fare per rimediare? Ci sono varie possibili soluzioni al problema dell'AMD. Nel caso di miniere attive bisogna partire dalla prevenzione con dei rigorosi protocolli di sicurezza e conseguenti controlli delle autorità preposte. Invece, se si tratta di miniere abbandonate, un primo passo è quello di individuare i siti potenzialmente critici e stimarne la pericolosità. Successivamente si possono applicare tecniche di bonifica che vadano a mitigare le negatività del fenomeno. Principalmente si cerca di controllare il flusso di acqua e acide uscenti dal complessio minerario, convogliandole presso un depuratore costruito ad hoc per il trattamento dell'AMD. All'interno del depuratore si possono sfruttare sia processi chimici che biologici. I metodi chimici hanno la finalità di abbattere la concentrazione dei metalli ossidandoli e facendoli precipitare, alzando i valori di pH. Nel caso dei metodi biologici si sfruttano le capacità di alcuni batteri di degradare i composti dell'ozolfo. Spesso tali metodi vengono utilizzati in combinazione tra loro per ottimizzare il rendimento del processo in modo che l'acqua in uscita dal depuratore sia norma di legge. In conclusione, l'acid mine drainage è una problematica abbastanza diffusa nel mondo, soprattutto in paesi come gli Stati Uniti, in quanto sono presenti numerose miniere abbandonate. Nel nostro paese l'AMD è una problematica poco risentita, poiché non abbiamo grandi complicazioni legate ad esso. Tuttavia nei principali distretti minerari attivi del secolo scorso, oggi spesso abbandonati, possono verificarsi criticità locali che andrebbero indagate.